Musica Benvenuti su Globus Sport News. La terza edizione della FASSA Sky Expo, evento legato al mondo del volo libero, avrà luogo dal 30 settembre al 2 ottobre in località Ischia, a Campitello di FASSA, in provincia di Trento. Tra le maestose vette delle Dolomiti, gli organizzatori della Icarus Flying Team confidano di ripetere il successo di visitatori delle precedenti edizioni. Nel girone A del campionato di promozione, confermano di voler far bene e svettano al comando della classifica a punteggio pieno l'Atletico Ribera, la Libertas 2000, l'Ares Menfi e soprattutto il Canicattì, unico in questo secondo turno a vincere in trasferta. Nessuna sorpresa nel girone B, dove sono tra le capolista a sei punti tre squadre, ovvero Villabate, Cus Palermo e Sant'Angiolese. Arrancano le formazioni etnee inserite nel girone C, l'Aci Sant'Antonio e il Calatabiano a zero punti e il Real Aci ad appena un punto. Quattro invece le formazioni che guidano la classifica con sei punti, Città di Messina, Camaro, Gescal e San Filippo del Mela. Soltanto l'Atletico Catania nel girone D è l'unica squadra ad aver vinto entrambe le partite. Successi casalinghi dell'Atletico Catania contro il Marina di Ragusa, del Vittoria contro l'Adrano e del Città di Ragusa che ha asfaltato il Megara. Inoltre gli esploi esterni del Santa Croce a Paternò e del Belvedere a Mascaluccia. Per il resto divisione dei bottini più o meno previsti tra Rinascita Netina e Dagata, tra Ubea e Aquile Calatine e tra Tre Castagni e Città di Catania. Soltanto il Mascaluccia è ultimo a zero punti. Unica squadra a punteggio pieno dopo la seconda giornata nel girone A dell'Eccellenza è il Riviera Marmi, che dopo aver battuto il Campofranco all'esordio in campionato, ha centrato un clamoroso esploit sul campo del Troina. Soltanto due squadre sono riuscite ad imporsi in casa, e cioè l'Alcamo contro Licata e il Paceco a spese del Mussomeli. Per il resto tutti pareggi. Campofranco Dattilo, Mazzara Castelbuono, Profavara Parmonval e Marsala Nissa, ad esclusione del tonfo casalingo del Terranova, che ha beccato quattro sberle dalla Folgore. Sorprendentemente in vetta, al girone B, a punteggio pieno, due squadre, ovvero Rosolini e la matricola Sant'Agata. La Cireale ha battuto nettamente il Torregrotta, il giarre di misura si è imposto nel derby con il Via Grande, così come la Sampio ha avuto ragione del Pistunina. L'unico successo esterno della giornata l'ha centrato il Taormina sul campo del Rocca di Caprileone. Lo Scordia e il Palazzolo hanno imposto il pari in trasferta, rispettivamente al Real Avola e al Milazzo. Il Torregrotta, il Via Grande e il Rocca di Caprileone rimangono in fondo alla classifica a quota zero punti. La Coppa Catania di Pallavolo, organizzata dalla FIPA Vettnea, avrà inizio venerdì 23 settembre. La Gupe Battiati è stata inserita nel Girone A con Coordinaire Universal. Il primo match di stagione si terrà allo Sporting Center di Battiati, mentre il giorno dopo, sabato 24, gli incontri si sposteranno al Palaspedini di Catania. Per quanto riguarda la Serie C femminile, per la Volley Club Gupe Cittaci Buonaccorsi, la Coppa Sicilia scatterà l'8 ottobre, mentre il campionato prenderà il Via il 29. Passiamo all'ultima notizia di oggi. La campionessa Bebevio, oro nel fioretto individuale ai giochi paralimpici di Rio, è la testimonial per la campagna Wind for Meningitis, nata per diffondere la prevenzione della meningite grazie ai vaccini. La 19enne sportiva, avendo contratto questa patologia quando aveva 11 anni, ha infatti subito l'amputazione degli avambracci e delle gambe. E per oggi è tutto, arrivederci alla prossima edizione di Globus Sport News. Grazie a tutti.